Non c'entra il merito della vicenda, stiamo parlando di una italiana che al di là del giudizio che uno può dare, delle sue idee, del modo con cui traduce le sue idee, se il fatto se è vero o non è vero che lei partecipava a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona.